Allora ragazzi io sto cercando Nicola che mi ha detto che siccome arriva sempre in ritardo era arrivato prima ma sto guardando in giro ma allora adesso giro. Montesecco monta il foglio. Oh ben arrivato ma a che ora sei arrivato? Dai non mi riprendi stavo dormito è l'ora che sto aspettando perché mi dite sempre che arrivo in ritardo. E stavolta si arriva un po troppo presto. Mamma mia stava piano c'ha fagna c'è pure le becce. Nicola dove stai andando? Ancora dormi? Sì ancora dormi appenni che è la pomeridiana. Hai fatto bene a dormire la cesta. Basta poco. Allora ragazzi siamo a Montalfoglio. Montalfoglio. Io e Nicola vi vogliamo presentare questo paesino. Piccolissimo neanche 15 anni ci abitano quindi. Pensate. Una chicca proprio una chicca una bombonierina bella bella. Allora sveglio. Andiamo. Una piancaffè poi partiamo con le immagini. Ciao ragazzi. Buona visione. Ciao. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.